Riassumendo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo partire da qua, prendere un aereo per l'Italia, andare in Italia, comprare un camper per un signore di Barcellona, portare il camper a Barcellona dal signore, fare il passaggio di proprietà di quel camper, comprare da lui, perché questa è la moneta di scambio, il suo camper, che abbiamo comprato ovviamente a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, e poi rientrare a Lanzarote in aereo. Il camper, che noi abbiamo comprato da lui, rimarrà a Barcellona, perché sarà quello che poi ci permetterà di rientrare a casa una volta venduto il nostro Arche America a Lanzarote. Lo sono i ragazzi che staranno con Margot. Ragazzi, ciao! Ciao! Questo è il camper che ha comprato lo spagnolo. Stiamo preparando tutte le cose. I imprevisti di questo viaggio continuano, ci hanno eliminato la nave che da Civitavecchia va verso Barcellona. Lasciamola a casa della nonna e tra un po' arriviamo. Pronti alla partenza? Ciao ragazzi! Partiamo per questi 500 chilometri e viaggiamo verso Civitavecchia. Perciamola a casa della nonna e tra un po' arriviamo. Perciamola a casa della nonna e tra un po' arriviamo. Perciamola a casa della nonna e tra un po' arriviamo. Ciao! Buongiorno! Devo prendere la nave da Grimaldi per andare a Barcellona. Ragazza? Eh? Ragazza? Sì! Da dove? Anzi, guardi voi! Allora, ce l'hai il titolo di viaggio? C'è i biglietti e... Barcellona devi andare in bigliettina a fare il cecchino. Ah, lo stesso bisogna farlo? Sì, a destra termina T1. T1? Sì, sono per le due strutture in vista blu, ad arco blu. Ok. Parcheggi fuori, fa il cecchino e ti porti al molo 21 che è a 100 m. Va bene. Ok. Grazie, ciao! Ciao! Allora, adesso andiamo a fare il cecchino. Ci hanno detto che i biglietti non è come per l'Armas. È tutto molto più semplice, vabbè. Quindi bisogna con i biglietti stampati che ci hanno mandato online andare a fare il cecchino. Dredino, sei pronto? Insomma, c'è un po' di strada, ci fanno andare in fondo a piedi. In fondo a chi? Questo qua cos'è? Boh, comunque bisogna andare in fondo, quindi... Andiamo! Allora, quindi diamogli... Allora, praticamente abbiamo dato i biglietti, il Green Pass, il SPTH e ci danno quelle lì. Quattro biglietti, uno del camper e uno dei nostri. Ah, ok. Magliette. E poi basta. Cos'è quello là? Finito? Niente, alla fine usciamo e andiamo dal camper. Vai, passa! Oh, e perché? Adesso ci mettono sulla nave. Tra pochissimo, penso. Iniziamo a preparare gli zaini, cioè che poi non prendiamo su tutto, uno zaino con i pigiami, le cose, la roba da mangiare che abbiamo preparato al sacco lì dentro. E poi penso che ci imbarchino. Qua c'è il crudo di prima, vado a mettere dentro il frigo? Io il frigo non lo hai detto di aprire, però. Non lo faccio qua, qua. Eh, eh, devo metterlo in frigo? È caldo? Sì, faccio qua. Adesso è caldo. Ok. Ah, io devo prendere su solo per Dredd e per me, dici? Ecco qua che stanno iniziando ad imbarcare. Io non ho i biglietti. Dove li hai poggiati? Dentro il marsupio ma non te ne fai niente. Ma c'è il tipo lì davanti che sta... Non te ne fai niente. Perché? Non lo controllo, è già controllato. I tuoi biglietti li hai già guardati? Oh, sì, c'è lì davanti con il camion. Ah. C'è Polite, un pacchiasso. Eccola lì, la Grimaldi Lines. Una bella botola, eh. Perché quello si vuole mettere così perché non vuole curvare quello lì. Sì, che sono impediti. Ma perché fanno le navi così? Così come? Che i camion non riescono a salire. Non lo so. Ma qual è il problema? Tocca a parurti dietro. E come fanno adesso? Aspetta. Eh, non so neanche, ma non lo so. Non lo so. Insomma. Questo qua vuole sorpassare. No, perché va ad entrare qui, è buona. Perché è un simbolo di bloccare. Lo sgonfia gli ammortizzatori. Ecco, sta andando anche l'altro pian pianino. Ce l'ha fatta? L'altro li ha gonfiati allora. Stanno andando dentro tutti e due, speditissimi. In realtà. Sì, ho gli aggonfiati, ho gli aggonfiati. No, gli aggonfiati. Vedi com'è alto adesso. Ah, infatti, sì. Beh, in realtà noi adesso ci abbiamo parcheggiato qua da una parte mentre imbarcano tutti i camion vediamo questo trusso qua. C'è un centimetro che è buono da per terra dai paraurti con i camion, ma è bellissimo. Se riesci a salire su. Dietro mi sembra tanto basso. E' il problema è il fattore. E' il davanti. E' il raggio terra, eh. Aspetta, 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 voglio vedere. Madonna. E' impossibile, non ce la fa. Adesso l'hanno fatto andare avanti e adesso di nuovo sta andando indietro. Ah, però va a salire il più storto possibile sicuramente. Sì, anche per me. Su qua ci fa partire la nave alle 10 e mezza. Sì, per me. Dai, Giovanna, che è lì, il raggio ancora. Beh, adesso non avere così paura, però capisco che c'è le camionaffe. Però dai. Guarda, sta sgonfiando tutta la gomma quel camion. Ah, meglio che le ingonfie. E' così piano che tu. Ciao. Ciao. Ciao camion. Ma no, ma è impossibile lì davanti, dai. Guarda dietro. Guarda dietro. Guarda dietro. È impossibile. Adesso è sceso di nuovo a vedere le distanze. Insomma, a vedere se sia sempre lì fermo. Così stanno mettendo dei sacchi. Vedete. Da dietro. Perché non vogliono fare salire, capito? Tentativo con i sacchi. Mi sa che stanno toccando ancora. Vediamo, vediamo, è salito con una gomma. Adesso non so, l'hanno fermato di nuovo. Ho schiccato tutto di sotto, vedete là, proprio la punta del blu. È tutto piegato. Eccolo là che fanno vedere i risultati. Casi tanto scelto con me bestia. E' il capo del furbano. Per me scelto con le balle, lasciamo indietro i bordi. Mio Dio, mio Dio, mio Dio. Sta continuando lì. Oddio mio, si è staccato. È venuto via tutto. È venuto via il portellone. E poi adesso il trattore. Non voglio neanche immaginare quei due parafenghi che ha lì. Ma lascia stare. Vediamo qua. Vediamo cosa. Sto facendo il giro. Guardate. Guarda, vengono tutti lì a giustarlo. Sto facendo. Sto facendo. Sto facendo qualcosa e le lo sbatte in testa tutte. No, dai. Non so, ormai cosa può fare come red. Non so neanche di chi c'è la colpa davvero? Colpa di quelle delle navi. Perché se loro mettono delle rampe per il camion che si alzano un po' succederebbe questo. Ok, però nel senso, lui che gli fa le danni? Niente. Loro dicono, c'è il camion in primo basso e gli altri sono passati. Penso anche io. E' ripartito. E' ripartito. In realtà non sembra aver paura dell'ultimo lato. Forse no. E' diverso. La fine non si sposta neanche. Lì è passato tranquillo. Per me è tocca per terra lì davanti. Per me è quasi raso terra. Vediamo. No, no, tocca. No. Sono andato piano. Oh, mio Dio. Ma ti saluto. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. ce l'ha fatta. Non so come l'ha fatta. Non so come l'ha fatta. Mi ha fatto al dietro. Poverino. Si sa per scendere dopo. Meno male che siamo davanti noi. E' il romeno che si inchiazza perchè non sale. Guardalo. Come si è incazza perché non sale? Non so. E' il romeno che si inchiazza perchè non sale. Questo vuole 500 euro. Questo vuole 500 euro. Stai dicendo questo vale 8 euro. Ah no, ci sta inchiazzando perchè anche lui sicuramente spacca tutto. Ci sta inchiazzando come una bestia. Ma non è possibile capire le navi così. Questo qua li ha già minacciati. Questo qua li ha già minacciati. Questo qua li ha già minacciati. Questo è solo fino a un parafango. Lo ha messo. Scendo e messo tutti. Oh, mi penso di un cinema oggi. Buono, ho alzato gli ammortizzatori. E ci sto andando verso la scelta. Quando dovrete avere dei problemi. Ho messo un po' un parafango. Adesso non riesco a riprendere. No, questo qua non c'ha dei problemi. Ci va? E' carico come una bestia. Guarda lì. No dai, tutto ok. Questo è andato. Incazzato per niente dai. Niente, penso che abbia spaccato. Questo qua invece è un po' l'ultimo. Un po' l'ultimo. E' un po' l'ultimo. Un po' l'ultimo. Un po' l'ultimo. E' un po' l'ultimo. Vediamo cosa ci deve fare. Questa è un po' l'ultimo. stanno mettendo una corda da nave per farlo spessore, basterebbe mettere sai quei sacchi arancio di sabbia, di ghiaia, metterne una fila, due file, una di fianco l'altra e invitare le macchine su, stanno facendo fatica anche le macchine, mamma mia, mi sa che ora partirà questa nave, ci sono tutti i camion quelli che non riuscivano ad entrare qua davanti, ci saranno le due ore per camion dopo, vero? È l'ora del nostro uomo qua davanti che salirà di qua, presumo, ma perché non l'hanno fatto salire subito di là, scusa, allora, se vedevano che era basso? Ecco, adesso fa... Sto andando dentro tranquillo, dai. Dai, Ber, siamo tutti con te. Chi è che ci ha lasciato uno scritto? Oddio, ha scritto crac crac là in fondo. È l'altro camion, quello... Sì, è l'altro dall'altra parte, ha fatto crac crac, non so cosa, ma ha fatto crac crac. Sono un quarto, alle nove, ci sono ancora tutti questi. Tutti questi. Sono stati 10 milioni, quello lì. Questi qua, col giubbato tonno, non so più cosa fare. Guardate, l'ha rotto. Hai rotto qualcosa di sicuro, perché mi è stato duro. Beh, nel casino di tutti i camion, alla fine, ci fanno andare in stanza. Cazzi loro. Questo qua ha spaccato tutto, spacchiamo tutto anche noi adesso. Ciao, Ber. Destro. Oh, dove vai? C'è scritto destro? Ah, te ne fatti? Va bene, dobbiamo andare lì in fondo. Non so dove. Boh, seguilo. Devi andare su. Dredino, dobbiamo andare su, mi sa. Scusa, papà, è il pomeretto. Papà, vero? Sì. Fica, così anche. Sì, si pensa di vincare. Sì, si pensa di vincare. Oh, vai, fermati. Ecco che ripartiamo. Quanto è grande, ma enorme sto posto. Allora, qua in fondo, vieni con la mamma, Dred. Ma non so perché ci ha fatto andare qua. Ma che ne so. Ci sei? Ma che ne qui è? Ma pensa che sia questa, però. Come no? Non penso. Allora, chi? Reception è al ponte, al deck 5. Spingo. Cabine. Madonna, ma sembra di essere su non so che cosa. Ti sei, Dred? Vieni, amore. Perché stanno a andare ancora in giù? Non lo so. Quindi era di qua, alla fine. Buono. Sì, reception, hai ragione. E' grandina, eh. Sì, diciamo che è. Però no, no, ci stendiamo. Vedi quelle crocette, guarda. Ah, è vero, sulle frecce. Andiamo a prendere la camera, Dred. No, non l'ho vista. Il schermo è enorme. Allora, vediamo come sono le camere di questa nave. Allora, il biglietto intanto è il biglietto stesso. Ok? Tiro fuori. Dentro. Niente, questo no. Ecco. Vieni, Dred, c'è la nostra camera. Vieni, Dred, c'è la nostra camera. Oh, you can't make money if you don't have money.